Il siero intensivo Beautyly è stato da noi formulato per creare un prodotto senza eguali sul mercato. Infatti abbina un altissimo numero di principi attivi di ultima generazione nella ricerca cosmetologica come l'acido ialluronico, peptidi anti-age, cellule staminali della gardenia, un complesso multivitaminico e la polvere di mica che rende luminosa la pelle. Altri naturali che da secoli sono utilizzati per la loro efficacia, l'olio extravergine d'oliva, l'olio di mandorle dolci e l'estratto di tè verde. La corretta formulazione e il giusto dosaggio danno vita a un potente idratante ed elasticizzante, alleato delle donne nella lotta contro il tempo e le rughe.